Ehi BBs, c'è la vostra Tani e benvenuti finalmente al live remix delle LOL Surprise. Il primo evento delle LOL Surprise 360 di musica e di danza. Che vibrazioni! Sono molto felice di averti qui con me oggi perché avrò sicuramente bisogno del tuo aiuto. Oggi facciamo un bel po' di remix. Aspetta, stop! Qualcuno lì non sa che cosa sia un remix. Adesso te lo spiego io. Un remix si crea mescolando degli stili differenti. Si mettono insieme fino a ottenere qualcosa ancora più forte dell'originale. Uh, come questo! Visto? Ho appena remixato il mio ODG. Outfit del giorno! Quindi dovrai aiutarmi a mettere insieme i pezzi migliori che sentiremo nella selezione musicale. Così alla fine avremo una playlist da condividere e ascoltare. Voglio vederti ballare insieme a noi, quindi quando faccio così, balla anche tu! E posta i tuoi video con l'hashtag LOL Surprise Remix Live. Ma prima, andiamo a conoscere i ballerini. Andiamo a conoscere i balleri. Andiamo a conoscere i balleri. Iniziamo il remix musicale con il meglio. Calling all babies! Si balla! Andiamo a conoscere i balleri! Non mi non scopere i balleri, non scoperti di più dollare le dollari! Aggiungiamo Calling All Bibis al nostro elenco dei remix! Questa playlist sarà favolosa! Uno dei miei generi preferiti è l'e-pop! Se balli e-pop ti devi assolutamente scatenare, ma devi farlo sempre col giusto stile e atteggiamento! Proprio come Onalicious! L'e-pop fonde tante culture e unisce la gente! Mi sto emozionando solo a parlarne! Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a ballare! Lo so che hai fatto pratica a casa! È così, vero Bibis? DJ, vai con la musica! No! 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ? . 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